Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parliamo di uno dei miei personaggi preferiti per quanto riguarda First Soldier, ovvero Glenn Lodbrok. Per quanto riguarda Glenn ci sarebbero diverse premesse da fare, cosa che però non faccio perché parleremo comunque di un setup o comunque di una build che secondo me è valida per il personaggio di Glenn, ma al tempo stesso vi farò anche delle piccole premesse e vi dirò comunque anche come la penso riguardo il personaggio e come secondo me ovviamente va utilizzato al meglio. Allora, per quanto riguarda Glenn, che cosa dobbiamo dire? Glenn è comunque un personaggio che è fondamentalmente predisposto nel colpire più nemici, lui è quel classico personaggio che aiuta tantissimo con i trash mob, qualora dobbiate farmare o qualora vi serve un personaggio che faccia danni aoe per velocizzare le wave di farming, è veramente comodo da questo punto di vista perché possiede diverse armi così un po' come gli altri personaggi che fanno danni aoe, solo che lui possiede queste armi con danni aoe con qualche percentuale di danni in più. Quindi diciamo che per l'appunto il gioco ti va a suggerire quasi il fatto di buildarlo praticamente come damager aoe. Per quanto riguarda la limit e la skin ovviamente in questo caso secondo me vanno bene entrambe, ha una seconda limit anzi che gli consente di fare danni aoe, quindi potrebbe essere comunque una soluzione, ma col fatto che comunque lui già col kit riesca a fare tanti danni aoe, preferisco avere comunque una limit che sia più forte ma che faccia danni single target. Lui insieme ai personaggi di First Soldier è praticamente uno di quei pochi personaggi se non gli unici praticamente per ora a possedere una skin alternativa completamente gratuita, una skin alternativa di ben 4 stelle, quindi skin di base che aumenta difesa fisica e boost per quanto riguarda la potenza del critico e invece una skin alternativa che aumenta HP e difesa fisica. A mio avviso meglio la seconda skin perché ripeto avere il boost di HP già di base e soprattutto di 8 punti a differenza di 4 punti di una skin 3 stelle è sicuramente comodo. Quindi vi consiglio comunque di utilizzare già la sua skin. Per quanto riguarda le armi qui ragazzi abbiamo veramente una vasta scelta. Ora lasciando perdere il fatto che io sia stato anche abbastanza fortunato a trovare tante armi per quanto riguarda Glenn, che quindi appunto ho diversi over boost, ce ne sono diverse che ovviamente si possono utilizzare. Non considero ovviamente l'arma di Shiba, scusatemi l'arma di Ifrit, semplicemente perché queste armi verranno utilizzate solo nell'eventualità appunto si vada a combattere Shiba, perché altrimenti non c'è letteralmente la motivazione di utilizzare un'arma simile. Perché se vi faccio vedere praticamente abbiamo una potency comunque abbastanza bassa, 320% per un'arma 5 stelle è veramente bassa. Questo semplicemente perché, perché essendo comunque un'arma free to play e un'arma che si può formare, il gioco tende a farvela portare comunque a qualità di tier rosa, scusatemi, e quindi portare la potency a 430%, che diciamo è per l'appunto simile alle stesse percentuali che hanno praticamente le armi dei banner, che arrivano a 460, 500 eccetera eccetera. Quindi fondamentalmente è qui il vostro obiettivo, quindi quest'arma va utilizzata solo se portata comunque a livello rosa, quindi se portata comunque alla seconda tier di Overboost. Quindi non la considero fondamentalmente. Arma free to play, stesso discorso anche per le Thousand Waves, che è per l'arma che ci è stata regalata con l'evento estivo che si è appena concluso. Arma che comunque non è male perché raggiunge comunque un 560% di danno magico non elementale, però le refined abilities sono un po' sprecate, tra virgolette, mettiamola così, perché avere 21 punti subito su HP e 24 punti su difesa magica, sì potrebbero essere utili, ma a mio avviso molto meglio utilizzarle come sub weapon. utilizzarle come sub weapon, anche se si riduce il numero di punti che si ottiene, però diciamo che le stats vengono comunque calcolate a metà e non sono affatto male. Come arma principale, ovviamente, essendo comunque di qualità rosa maxata, soprattutto, avremo la possibilità di avere un bel po' di attacco fisico e attacco magico che aiuterebbero senza ombra di dubbio il nostro personaggio. Ma, sinceramente parlando, secondo me è molto meglio investire sul moveset piuttosto che investire sulle statistiche che comunque in un modo o nell'altro si possono camuffare o comunque si possono recuperare tramite tutte le armi che si equipaggiano, quindi comprese le sub weapon, comprese tutte le varie armi che si possono ovviamente dare al personaggio. Quindi io reputo molto più saggio concentrarsi sul moveset. Moveset che comunque, come detto prima, è abbastanza vario, ma che fondamentalmente si concentra sui danni AOE. Abbiamo praticamente l'Apologinel, che è praticamente una delle armi più forti con moltiplicatore di danno attivo, di danno fisico, perché abbiamo addirittura un 600% in overboost rosso e ovviamente in 780% qualora si riuscisse ad arrivare all'overboost rosa. Ovviamente portare overboost rosa questa arma, magari col tempo, perché ovviamente uno non va a pullare su quest'armi, però è giusto sottolineare che abbiamo di fronte una delle armi probabilmente più alte come moltiplicatore di base all'interno del gioco, quindi è veramente tanta roba. Questa però purtroppo è single target, quindi non la consiglierei tantissimo come arma primaria, però come arma secondaria già potrebbe essere un'idea. La mia idea fondamentale di arma primaria potrebbe essere senza ombra di dubbio una Jiggy Fam che possiede l'attacco quaga, quindi un attacco di tipo terra a OE, è estremamente raro. Non abbiamo tantissimi danni a OE, abbiamo la magia, comunque Quake, che ci consente di fare danno, ma single target, mentre invece un personaggio come Glenn ha un'arma che addirittura ha una quaga, quindi possibilità di fare danni terra a OE. E questa non è una cosa da sottovalutare. È vero che le potenzi sono più basse, ma vi ricordo che le potenzi sono più basse perché appunto sono danni a OE, quindi sono danni che comunque vengono distribuiti a tutti i nostri avversari. Ovviamente portata più su come tier di qualità abbiamo comunque anche già 400%, che sarebbe decisamente valida e poi alla fine 520, ma queste diciamo che saranno cifre che si raggiungeranno magari pullando a caso, trovando banner, trovando comunque armi che non ci interessano e quindi maxando piano piano l'arma. Però a mio avviso una Jiggy Fam è sicuramente una delle armi più rare presenti all'interno del gioco e anche migliori da poter offrire al nostro Glenn. Anche una Shock Booster potrebbe essere comoda perché possiede comunque dei danni tuono AOE, solo che per quanto riguarda i danni tuono, io personalmente parlando non consiglierei nessun altro il di fuori di Cloud, perché comunque Cloud è il primo della classe, se così possiamo chiamarlo, per danni tuono. È vero che fa danni tuono single target, ma fa comunque talmente tanti danni in single target che riesce comunque a giostrarsi bene più avversari, perché fa tanti danni e quindi di conseguenza riesce a shottarli più in fretta. Ci sarebbero anche altre armi che effettivamente potremmo sottolineare, come ad esempio una Hardcore Squad, che dà addirittura una potenza, diciamo dà anche una difesa fisica e difesa magica, che può arrivare fino a potenza mid, però diciamo che Glenn non viene considerato comunque come un tank e non viene considerato come un difensore, quindi personalmente parlando non ve lo consiglierei più di tanto. Altre armi che probabilmente potrebbero essere interessanti sono la Rest in Peace. Rest in Peace è perché possiede comunque il sigillo incluso, e questo ragazzi è un sigillo raro, perché avere direttamente il sigillo doppio triangolo sotto e sopra non è da tutti, quindi si può breccare automaticamente l'avversario col doppio sigillo sotto sopra anche senza dover breccare prima i sigilli precedenti. E questa è una cosa da non sottovalutare, decisamente da non sottovalutare. Quindi se dovessi fare comunque un setup predefinito metterei sicuramente la Gigifam come arma principale e come seconda arma probabilmente andrei di... no, dove si trova? Eccola qua, di Rest in Peace. Assolutamente. Ok, qui sicuramente avrete visto un taglio, ma purtroppo telefonata urgente. E quindi vi stavo dicendo appunto che il setup che comunque a me piace utilizzare su Glenn è sicuramente coprire un elemento raro come la Terra con Quaga e poi successivamente avere comunque la Health Penalty che mi permette comunque di avere un sigillo raro effettivamente e che comunque mi faccia e mi provochi comunque dei danni. Ripeto, qualsiasi personaggio può essere giocato, può essere buildato come vi pare e piace. Le cose che, ripeto, secondo me sono importanti per identificarne il ruolo sono le statistiche principali e ovviamente le loro armi principali ovvero le loro armi banner, se dovessimo chiamarle così. E in più, ovviamente, le sub abilities. La Gigi Fam, così come Cloud, come potete notare, ha il boost del sigillo triangolare. Quindi le armi, allora per me, ripeto, in generale le armi che hanno il boost sui sigilli sono comunque una tier superiore. Cioè, io le classifico come se fossero una tier superiore rispetto alle altre armi. proprio perché ci tengo a breccare il più velocemente possibile il mio avversario. Quindi avere comunque con Glenn la possibilità di avere un sigillo già con la health penalty e avere un altro sigillo tramite ovviamente la Gigi Fam è sicuramente utile. Cioè, rendono Glenn un ottimo breaker, oltre ovviamente ad un buon attaccante. L'unica cosa che in teoria un pochettino mi fa storcere il naso sono i due boost di attacco magico. Glenn fondamentalmente mi piace di più come fisico, se devo essere sincero. Anche perché comunque la seconda skill è ovviamente un danno fisico. Mentre invece in questo caso, va bene, abbiamo comunque danno magico, quindi possiamo stare tranquilli. Ma la health penalty è comunque un danno fisico. Quindi tendenzialmente bisognerebbe buildarlo come un ibrido magico fisico, però tecnicamente se si builda più magico che fisico, almeno in questo setup, secondo me conviene di più. Perché comunque avere già comunque una potencies più bassa di Quaga, che è il 280%, bisogna comunque pomparlo un po' di più con statistiche magiche. Quindi sia come sub weapons e sia in generale come tutto, cercate comunque di buffare l'attacco magico il più possibile. Gli HP di Glenn sono già altissimi. Sono già altissimi anche perché comunque abbiamo delle armi che praticamente mi consentono già di incrementare, se non mi ricordo male, gli HP. Perché, ah no, addirittura no. Quindi, madonna, a maggior ragione. Cioè, abbiamo comunque delle... Già abbiamo comunque degli HP altissimi per Glenn. Quindi pompare l'HP con le sub weapon potrebbe anche essere una cosa eccessiva. Cioè, 3796 HP così, senza altro. È vero che abbiamo il boost, se non sbaglio, dell'armatura che aumentava gli HP. Però, ok, sono otto punti, quindi non tantissimi. Però, 3796 secondo me sono già un gran numero di HP. Ripeto, se non fate contenuti endgame pazzeschi, i 3500 HP sono, diciamo, il range giusto da raggiungere. 3500-4000. O sopra i 4000 si rischia di esagerare un pochettino. Quindi, già, 3700 comunque per me sono un buon numero di HP. Quindi, in questo caso, boom, tutto attacco magico. Quindi, sub weapons tutte su attacco magico. Se volete, ovviamente, pompare un pochettino anche il danno di health penalty, che comunque potrebbe anche starci, fate due armi magiche e una magico-fisica. Così, magari, vi pompate un pochettino, diciamo, l'attacco magico e l'attacco fisico in contemporanea. Per quanto riguarda il resto, in realtà, non c'è altro da dire. Cioè, sto cercando di rendere questi video i più brevi possibili, in modo tale da non annoiarvi più di tanto. Se però vi interessano comunque setup anche con materie, che, ripeto, secondo me non c'è bisogno, perché ogni stage, ogni combattimento richiede materie diverse con equipaggiamenti diversi. Io vi sto parlando semplicemente di una build generale che va a includere tutte le peculiarità del personaggio. Poi, ovviamente, nei casi specifici li tratteremo durante, magari, gli stage. Cioè, se io mi metto a fare la Tower 30, per esempio, della Battle Tower, eccetera, vi porterò comunque a breve la guida anche della Battle 30, eccetera, io, ovviamente, mi faccio un setup in base a quel livello, in base a quello stage. Quindi, quello che vi sto facendo vedere adesso è quello che, secondo me, risulta essere un setup ottimale come punto di partenza. Poi, ovviamente, ognuno decide di modificarlo e adattarlo secondo anche il proprio playstyle, secondo il proprio metodo di gioco, ok? Quindi, ci tengo comunque a sottolineare questa cosa. Detto ciò, non ho nient'altro da aggiungere per il momento, quindi, questo è quello che vi dico su Glenn. Spero che il video possa esservi utile. Spero, ovviamente, che possano anche piacervi questo tipo di contenuto. Fatemelo, ovviamente, sapere sotto nei commenti, se ovviamente vi fa piacere. Vi ricordo, comunque, di mettere il pollicino e il commento per dare più visibilità al canale. E noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye! Ciao a tutti! Ciao a tutti!